Bentornati su Mario Rabbids Sparks of Hope. Oggi andiamo ad affrontare insieme il boss del secondo mondo e andiamo a sbloccare un nuovo personaggio, ovvero Rabbid Rosalinda. Ed eccolo qua ragazzi, il boss di questo secondo mondo praticamente è Midnight, un personaggio molto particolare, mi ricorda davvero tantissimo le vibes di Luigi's Mansion, che amo alla follia, per cui vediamo che succede. Al momento il mio team è formato da Edge, personaggio sbloccato nel precedente video, poi Luigi e Rabbid Peach, che sono i miei tre personaggi preferiti, utilizzandoli un attimino di più mi sono reso conto che sono quelli più adatti al mio stile di gioco, cosa assolutamente da non sottovalutare. Come notate Edge non ha minimamente paura del boss. Ed eccoci qua, ci ritroviamo anche direttamente lei, Rabbid Rosalinda. Personaggio tra l'altro che sarà giocabile, non vedo l'ora di andare a provare quelle che saranno tutte le sue abilità, il modo in cui appunto combatte in battaglia, sono veramente molto molto curioso. Eccoci qua. Tra l'altro noi è come se in realtà il nostro obiettivo fosse appunto andare a salvarla, in pratica. No, lui viene catturato, in pratica si è aggiunto a noi nel corso dell'avventura. I Rabbid ragazzi sono sempre mattissimi, cioè fanno poi delle facce assurde. Va bene. Credo che ora sarà arrivato il momento di affrontare il boss perché, se notate, quella in cui siamo è una vera e propria arena. Quindi, e quella è la sua arma? Biblioteca di Midnight. Occhio perché qua ragazzi credo dovremmo affrontare non solo il boss ma anche altri avversari piccini. Più o meno piccini come vedete. Ok, quindi bisogna partire con il giusto spirito ma con i giusti personaggi. Qua ne abbiamo addirittura quattro. Quindi possiamo addirittura utilizzare anche appunto lei. Rabbid Rosalinda. Guardate quanti ce ne sono di avversari qua. Posso andare a combattere direttamente con lei. Non faccio in realtà una quantità di danni effettivamente devastante, il che è un po' un peccato. Vediamo un po' chi potrei provare a colpire. Se provassi, voglio provare a vedere che attacchi fa. Fa molti danni. Ok, invece la sua abilità che fa? Subiscono l'effetto moscezza, non possono muoversi, usare l'arma o le tecniche. Cioè praticamente non possono fare nulla. Questo è veramente ottimo. Ma passiamo direttamente agli altri personaggi. Allora, io vorrei provare a colpire direttamente con Luigi. E andiamo a fare altri danni agli avversari. Poi, se io provassi a fare una roba di questo tipo, vediamo. Prova a raggiungere l'avversario. Ad utilizzare anche una scivolata. Perfetto. E poi, nascondendomi qua dietro, vorrei provare a vedere se riesco a colpire un po' tutti meglio. Eh ragazzi, qua tocca stare molto attenti. Potrei anche colpire direttamente Midnight, perché no? Ecco qua, sono coperto. E facciamo molti danni critici, veramente top. Ricordiamoci pur sempre che abbiamo anche gli spark a nostra disposizione. Ultimo personaggio che potrei andare a sfruttare è Edge. Io provo a fare il salto team qua. Magari cerco di stare un attimino attento. E provare a vedere se riesco a colpirli entrambi. La risposta è sì. Sì, perfetto, quello che desideravo. Quindi uno eliminato e poi anche Midnight il boss colpito alla grandissima. Potrei provare ad attivare la sua abilità, ma per ora andiamoci piano. Non ho usato nemmeno gli spark. Vediamo che succede, eh. Tutti gli avversari fanno i loro passi. Attenzione perché... Sono stato colpito con Edge. Vengo colpito anche direttamente con Rabbit Peach. Questo ci arriva a noi, sì. Hanno un range di attacco veramente assurdo. E guarda Midnight. Ha fatto qualcosa verso Luigi. Danni assurdi per Edge. Devo stare molto attento. Ecco qua. Per fortuna... Lì la copertura ha fatto effetto. Provo a colpirla a distanza, perché no? Vediamo. Dovrei fare un po' di danni. 183, non male. Provo anche ad utilizzare lo sguardo dell'aquila, che è l'abilità di Luigi che gli permette praticamente di attaccare un avversario a lunga distanza quando si muovono. E vediamo un attimino. Avrei pure lei. Magari se mi mettessi da qua posso provare a colpirla. Veramente non male. Riesco a curare gli altri? Sì, riesco a curare chiaramente sia Rabbit Peach ma anche Edge. Cosa che faccio assolutamente. Quindi come vedete ragazzi il gioco è veramente un bel po' strategico. Bisogna fare un po' d'attenzione. Proverei dove è possibile ad utilizzare anche il mio Spark, però un solo punto rimanente. Per ora quindi no. Andiamo ad attaccare. Tre colpi di cui uno pure critico. Però era molto molto resistente lei, eh. Ho il 50% di possibilità di colpirla. Ci provo e va a segno! Top ragazzi! Allora proverei questa tattica. Proviamo a saltare. Ok, che raggiungiamo la posizione. Provo a colpire Midnight. Ce la faccio! La riesco a distruggere? Mi sembra tutto troppo semplice però. Vediamo. Colpita! Sembra però arrabbiarsi ragazzi. Lo sapevo che non poteva finire così facilmente. Va bene. Però la boss fight mi piace un botto. Però ce la stiamo gestendo benissimo. Guarda! Cambia le posizioni delle coperture? Credo che siamo passati alla fase successiva della boss fight. Sono cambiato un po' di cose. Lei è molto più distante. Quindi credo di doverle colpire praticamente ed eliminarla più volte. L'obiettivo qua ragazzi effettivamente... Sì. È andare ad eliminare direttamente l'avversario che è lei. Poi tutti gli altri sono praticamente avversari un po' più piccini. che sono lì appunto per farci un po' di danni. Io direi che potrebbe essere arrivato il momento magari, sì, di passare il turno. O potrei curare... Sì, potrei curare Edge ora come ora. Sfruttiamo il tutto. Abbiamo utilizzato anche l'abilità. E andiamo avanti. Vediamo un po' gli avversari che fanno. Lei proprio si teletrasporta. Eh, questo è pericolosissimo per noi. 556 di danno? È altissimo il danno. Ok, eliminato. Perfetto. Potrei provare... Ma che passeggiata si è fatta? Ok, per fortuna questa non è arrivata da noi, meno male. Si copre lui, ma ci colpisce, mi sa di sì. Mamma mia, quanti danni! Sono veramente in difficoltà. Perché qua ragazzi potrei perdere lei, lo sapevo. Gravissimo. Avevo sottovalutato il potere di questi. Io quindi se provassi così, mi vedrebbero sicuramente e verrei attaccato. Non appena mi muovo, infatti, vedete? Vengo attaccato da lui. Resto un attimino coperto. Devo provare. Un attimo a pensare. Ancora dall'altro! Non me l'aspettavo! Mamma mia, che pericolo qua! Allora, stiamo attenti. Provo a fare così. Provo a lanciare un attimino la bomba ad entrambi. Perfetto, sono stati colpiti due avversari, compreso Midnight. Anzi, compresa. E potrei provare a colpire così, con questa lama rotante. Almeno così lui ce lo togliamo dalle scatole. Perfetto. Potrei provare a vedere se riesco a colpire lui. Lo prendo in pieno! Perfetto. Quindi ottimo. Ragazzi, ci stiamo gestendo. Molto bene la situazione. Anche se purtroppo un personaggio noi l'abbiamo perso ad ora. Quindi occhio, eh. Ok, abbiamo subito un po' di danni. Qualche altra bomba va in giro. Non importa. Qua subiamo ancora. 300. Ancora tutto gestibile. Tocca finalmente a noi. Potrei provare a colpire così lei. Perfetto. E lo sconfitta? Mi sa di sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma ce la siamo giostrata alla grandissima. La boss fight, vi devo dire la verità, va pensata assolutamente. Va gestita. Ma vedo che lei è ancora forte. Ha ancora energia. Ha ancora potere. Non è finita qua. Oh cavolo. Aia. È la prima volta che faccio questa boss fight. Quindi non mi aspettavo ci fosse una terza fase. Guardate quanti nemici. Io vorrei solo capire se il personaggio che avevo perso... Sì, nel complesso ha recuperato l'energia. Io però qua a questo punto la faccio recuperare un attimino a tutti l'energia. Direttamente con l'abilità. Quindi almeno così abbiamo recuperato. Sto provando a raggiungere Midnight. Eccola qui. Sono proprio vicinissimo. Potrei provare a sfruttare direttamente l'abilità delle scivolate che fanno un botto di danni. Utilizzando appunto lo spark in realtà. Quindi ecco qua. Guardate quanti danni fa. È la prima volta che lo utilizzavo. Quindi veramente top. Posso anche provare a colpire così a questa distanza. Eh, in realtà sono troppo vicino qua. Però va bene. Proviamo a colpire 196 di danni. E a questo punto proviamo a colpire Midnight. Anche direttamente con lei. Un po' di danni critici. Non male. E devo passare obbligatoriamente il testimone. Lei si è teletrasportata la grandissima. Mi sembra non abbia più amici se non ecco un paio. Ahia. Un paio di minions. Però va bene, va bene. Tocca a me di già. Ok. Andiamo da lei. Dov'è? Eccola. Eh ragazzi, la riesco a distruggere secondo me in questo turno. Non ne sono sicuro. Ho raggiunto lei. Non me l'aspettavo di riuscire a raggiungerla, confesso. È resistente, molto resistente lei. Io direi di attaccare direttamente così. Quindi. Ok. Anche un colpo critico. Perfetto. Utilizzo pure la sua abilità della lama furiosa. Vediamo se riusciamo anche direttamente a... Quando lei si sposterà a farle dei danni. Anche se potrebbe spostarsi. Direttamente con qualcosa di troppo semplice. Non lo so. Proviamo a colpire così. Dovrei fare un bel po' di danni. Perfetto. Danni critici. E credo che resti l'ultimo colpo da dare. E ce l'abbiamo fatta adesso. Ragazzi, che vittoria. Credo assurda. Questa è la terza volta. Dovrebbe essere stata completamente sconfitta. E infatti lui viene liberato. Ce l'abbiamo fatta. Veramente top. Contentissimo, cavolo. Sono veramente contento perché la prestazione che abbiamo fatto è stata veramente, secondo me, di buon livello. Bene così. Guarda dietro. C'è il rabbit pitch con la gomma. No. È forte, voglio. È proprio figo. È proprio divertente. Quindi a quanto pare loro due si conoscevano già perché vedo, come dire, degli sguardi particolari. Vedi, lei si sente tipo tradita, non so. Battaglia completata. E abbiamo sbloccato lei. Sembra che abbia troppo sonno, troppo stanca, guardala. Ma no, prendi il cristallo lì. È il cristallo di... Vabbè, comunque. Battaglia completata. Abbiamo pure curato un attimino qualche personaggio. E saliamo al livello 14 con tutti i personaggi. Palazzo d'inverno. Missione completata. E posso quindi viaggiare direttamente al prossimo mondo, che vedremo in un prossimo video. Quindi ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi. Alla prossima. Ciao!